Non è solo un luogo quello che racchiude i sette comuni della Val di Chiana, ma è qualcosa di più, un protocollo d'intesa che opera soprattutto in ambito culturale sugli eventi per la valorizzazione di questo territorio. Presentato ufficialmente nella giornata di sabato 20 febbraio, il luogo della Val di Chiana, il cuore della Toscana, è stato ufficializzato e non poteva essere altrimenti proprio in una delle location tipiche della vallata retina. Il luogo è l'elemento identificativo che vuole andare a caratterizzare tutte quelle iniziative che come sette comuni della Val di Chiana andiamo a calendarizzare, ma vuole essere un punto di partenza per essere non solo riconosciuti, avere un nostro brand, ma cominciare a lavorare in sinergia, in rete per la promozione di questo meraviglioso territorio, sia da un punto di vista culturale, ambientale e turistico, perché la nostra vera ricchezza, il nostro vero oro è il turismo nella Val di Chiana. Quindi questo è stato siglato, questo protocollo di intesa a dicembre 2014 e già nel 2015 ha avuto un suo primo grande appuntamento che ha dato anche importanti risultati, che è stata la partecipazione dei comuni della Val di Chiana all'Expo. Avevamo una nostra aria sui navigli dove per cinque mesi abbiamo presentato a tutti i visitatori le bellezze del nostro territorio. Quali sono state le prime azioni che avete messo in campo? Sì, oltre alla realizzazione al punto del logo abbiamo attivato un sito www.valdichianamusei.it, ma la cosa più significativa e più importante è la realizzazione di una museo card, che è praticamente una tessera che dà diritto all'accesso a tutti i musei della rete valdichiana con una possibilità di scontistica. Questo è stato veramente l'elemento di congiunzione per poter facilitare il visitatore alla visita delle nostre bellezze artistiche e culturali. Soprattutto mai più sovrapposizioni di eventi anche tra comuni diversi, almeno in Val di Chiana. Almeno in Val di Chiana, esatto. Altro obiettivo è proprio questo, cioè a partire dal 2016 una calendarizzazione degli eventi comunali, perlomeno quelli di maggior rilievo, in modo tale appunto che non ci sia sovrapposizione e che tutti i nostri cittadini non solo possano godere in pieno di tutte le iniziative che mettiamo in campo.